Buona giornata! Oggi Joan Wolfgang von Goethe ci dice una cosa bellissima. Qualunque cosa tu possa fare, qualunque sogno tu possa sognare, comincia! L'audacia reca in sé genialità, magia e forza. Comincia ora! Sì, comincia ora! Ma non dire, no ma ora non sono pronto, non ho studiato bene la cosa, non ho fatto le cose. Comincia, comincia ora! Comincia a muoverti, comincia a fare qualcosa. Certo, domani, fra due anni potrai dire, ma se avevo fatto in quel modo... Sì, però se aspettavi di dover fare in quel modo, non avresti cominciato mai. Quindi comincia ora! Perché l'audacia reca in sé genialità, magia e forza! Quindi mi raccomando, non farti fregare da chi ti dice No, ma non ora, fra un po' forte, potente e vai! Quindi oggi inizia a pensare a come realizzare i tuoi sogni. Comincia ora! Ora! Non aspettare! Daniele Paci, per felicità e pace, Om Shanti, Shanti, Shanti! Buona giornata! Ciao! Buona giornata! Buona giornata! Buona giornata! Buona giornata! Grazie.